Vita da Carlo per un'ex moglie, che io conosco tra l'altro anche Gianna, la moglie vera, che è un'ex moglie ma che praticamente tutti i giorni lo sente tre volte al giorno, è a Carlo, quindi è forte essere l'ex moglie di Carlo Verdone perché non è per niente ex, ogni cosa si riferisce a me e quest'anno ci sarà anche un piccolo colpo di scena che non so dove andrà a finire nella quarta, bisogna chiedere a Carlo, ma che succede con la tua ex moglie? Carlo Verdone che ce l'ho ritrovata. Monica, che rapporto hai tu con il Festival di Sanremo? Mi ricordo che eri stato ospite nel 2021 con Achille Lauro, tra l'altro. Esatto, hai riconosciuto il vestito? Esatto, Penelope, quello che dice sono diventato una leggenda, un bastone per le altre donne che non saranno assennate come me, oneste come me, buone come me, quindi attenzione ai miti femminili perché poi le donne hanno altri problemi. Come ti spieghi questo grande successo di inganno? Mancava un racconto emotivo, passionale, sentimentale nel mondo perché è primo nel mondo. Al di là dell'età, l'età conta, il fatto che io non mi ritocchi, ha imposto un modello di donna nuovo che in genere non si vede, che però ama.